In questa tavola che sto realizzando ad acrilico ho pensato di realizzare una piccola storia in cui Dante incontra l'allegoria della cupidigia, quindi la lupa. Riprendo i versi della commedia e ne aggiungo uno, quindi mi guadagno il purgatorio con questa violazione del sommo poeta, in cui la cupidigia e la lupa trovano pace perché i temi di questa giornata sono Dante, il Pantheon, lo sfondo della tavola è il Pantheon e appunto la pace, immaginata in questo caso attraverso la cupidigia ammanzita. Grazie 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 Grazie